Cinque anni fa non era nemmeno immaginabile pensare che qualcuno potesse fare una causa alla banca. Erano notizie che finivano sui giornali a tiratura nazionale. Quel signore ha fatto la causa alla banca. Le banche erano viste ancora come una istituzione sacra ed inviolabile, un mogol inabbattibile, qualcosa che solo il pensare di poter contrastare era una circostanza che avrebbe fatto tremare i polsi anche ai più strutturati. Noi con quello che abbiamo pensato di realizzare e con quello che grazie a voi tutti, a chi c'è stato prima e a voi tutti che siete qui oggi, qui presenti e chi è a casa, abbiamo invece fatto fare alla coscienza collettiva un grande passo in avanti.